Graena sotto attacco, condanna unanime dal mondo della politica nelle marche, le città si mobilitano per riportare la pace in Europa, domani fiaccolate e sit-in contro l'invasione russa. Colonna di fumo e fiamme alla raffineria di Falconara Marittima, nessun ferito ma grande spavento e treni bloccati in azione LARPAM per il controllo sui danni ambientali. Multe annullate, Umberto Carriera, depositate le motivazioni della sentenza, l'IPCM era privo di spiegazioni sanitarie e tecniche, l'imprenditore può richiedere al governo il risarcimento dei danni. Migliorare sì, ma senza stravolgere il percorso e la natura, il comitato Arzilla resistente continua la battaglia contro il progetto attuale della ciclovia. Per venire in zone come queste, senza possedere la storia, senza avere una conoscenza dettagliata, si possono fare dei danni seri. Partiti i lavori di asfaltatura in via Aureliano a Ponte Metaura Fano, da marzo al via, al nuovo piano degli asfalti, dalla città alla periferia. Buonasera e benvenuti a occhio alla notizia in primo piano, l'attacco all'Ucraina sul quale sono intervenute oggi diverse istituzioni. Sono scene di guerra che mai avrei immaginato di dover ancora vedere, ha commentato il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. Il governatore ha espresso preoccupazione profonda a condanna, soprattutto in un momento come quello che l'intera comunità mondiale sta vivendo da ormai due anni. L'aggressione della Russia, ha scritto il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, è feroce, cinica e priva di qualunque giustificazione che l'Europa sia compatta nella condanna e che ognuno dichiare esattamente da che parte sta. A Fano, Seri, ha annunciato sia un ordine del giorno del Consiglio Comunale contro la guerra, sia di voler incontrare la comunità ucraina che si trova in città per esprimere vicinanza e per mettersi a disposizione con nazioni concrete che possano aiutarla in questo momento drammatico. Domani, in piazza 20 settembre, si terrà un sit-in, a partire dalle 17.30, per condividere l'impegno per fermare la guerra e riportare la pace in Europa. A Pesone, invece, il Comune aderisce all'iniziativa denominata per la pace per l'Ucraina, lanciata da ALI, Autonomie Locali Italiane. Domani, alle 18.30, ha spiegato Matteo Ricci, organizzeremo una fiaccolata statica in piazzale Lazzarini. Sarà un momento di condanna contro chi vuole schiacciare uno Stato sovrano con la forza e contro ogni regola del diritto internazionale. Vogliamo far sentire al popolo ucraino, ha proseguito Ricci la vicinanza dei cittadini e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra. Timore per la sicurezza e l'economia è quanto emerso dalle interviste che abbiamo realizzato oggi pomeriggio nel centro storico di Fano, dove abbiamo raccolto il parere della gente sul conflitto in atto. La situazione sicuramente non è facile ed è preoccupante al momento. Speriamo che non parti la guerra come dicono, anche se è già iniziata. Paura anche per noi italiani? Sicuramente sì, anche perché l'Italia è un punto cruciale con gli eserciti, per gli altri stati niente giustifica il ricorso alle armi. Assolutamente, non si giustifica mai il ricorso alle armi, sicuramente. Avete seguito la questione di oggi dell'invasione della Russia sul territorio ucraino? Sì sì, l'abbiamo seguita e io sono anche spaventata per essere sincera e preoccupata. Sembra che sia una cosa un po' programmata, non so, non ho capito bene la cosa. È una cosa incredibile, lui vuole rifare l'Unione Sovietica, rimette, non solo, partirà da lì per poi allargarsi, ma se glielo fanno fare o glielo permettono è un disastro, cosa che penso che non succeda. Comunque, vi voglio dire, voglio pensare bene. Secondo lei avrà ripercursioni anche sull'Italia, sull'economia in generale? Non sarà nessuna guerra, ragazzi, queste sono provette di... Eh basta, vedrai che fra poco finirà tutto. Speriamo. No, deve finire, non può andare avanti perché diventa troppo grossa la situazione. Semplicemente non ci sono parole, è una guerra sulla guerra, perché siamo comunque in guerra sempre qua. Nel 2022 ancora si deve usare tutta questa violenza e scaturire delle guerre, mi sembra una cosa ridicola. Dietro ogni guerra c'è sempre un interesse purtroppo economico, politico, religioso e sicuramente, già ne stavano parlando da mesi, degli aumenti del gas, della luce, quindi sicuramente avremo delle ripercussioni, ma chissà, probabilmente è anche tutto pilotato, dico una parola scomoda, però anche per giustificare o per incrementare queste mosse economiche a livello mondiale. Ma come si fa a gestire così la politica internazionale? Non si vergogna Putin di esistere? Speriamo che, guardi, non so che cosa bisogna sperare, è un mondo impazzito, è un mondo impazzito. Lo dico da insegnante in pensione, che ho insegnato la storia ai ragazzi, ho insegnato anche le guerre, ma non avrei mai pensato nel terzo millennio di ritrovarmi di fronte a un evento così drammatico e assurdo. Non ho mai vissuto una guerra, non faccio un militare, però sì, è brutto, è brutto e non penso sia tanto la soluzione migliore, spero si risolva il più presto. Forse l'uomo non ha imparato niente dalla storia, evidentemente la storia ci insegna che la guerra è un'estrema razza che non porta a nessuna conseguenza positiva. L'economia italiana? L'economia italiana non ne beneficerà. Oggi io lavoro nel settore energetico, abbiamo visto degli aumenti esponenziali che se la situazione non si calmirerà in qualche modo, non ci saranno degli interventi, sarà destinato ad aumentare. Quindi vediamo un po' cosa succede anche da parte dello Stato, quale saranno le manovre del governo. Ad stato stupore questa mattina pesero il passaggio di un treno carico di mezzi militari, come vediamo in questo video pubblicato su Instagram. Non sappiamo la destinazione del convoglio, ma di certo oltre a fare il giro del web, il video ha suscitato un po' di preoccupazione. Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 11.30 alla raffineria AAPI di Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Dallo stabilimento si è elevata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Come ha spiegato il Comune, non si registrano feriti. E il rogo è scaturito da una pompa di carica dell'impianto di cracking termico. L'incendio è classificato categoria 1 e dunque ha fatto scattare la fase di preallarme. Dopo alcune ore le fiamme sono state domate ed è ripreso il traffico ferroviario e aereo che era stato sospeso sul posto e vigili del fuoco provenienti da diverse sedi delle Marche, il 118, la Polizia, i Carabinieri e l'ARPAM, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale che ha eseguito tutti i rilievi del caso. Torniamo a fanno per la ciclo pedonale dell'Arzilla che continua a far discutere e a dividere comitati e residenti. Oggi hanno voluto dire la loro alcune persone e altre persone contrarie all'attuale progetto che andrebbe a cambiare il volto del tracciato finale con cemento, gabionate e abbattimento delle piante. Chiediamo da anni di migliorare questo percorso ciclo pedonale ma siamo contrari al progetto così come studiato e appaltato. A ribadirlo oggi è Luciano Benini del comitato Arzilla resistente che continua a chiedere al comune di rivedere l'intervento redato da ASET sul tratto finale della ciclabile Fano-Mombaroccio. È un percorso che da 25 anni, lo so perché ho contribuito 25 anni fa, ero assessore a realizzarlo e consente a tutti, mamme con bambini, con carrozzine, persone anziane, persone disabili. Io sto qui sopra e un mio amico mi viene a trovare passando in carrozzella, passando in questo percorso. Naturalmente ci sono nel tempo dei punti che si sono ammallorati, proprio qui dove siamo ci sono spuntoni di cemento, di vecchio asfalto, ce n'è ancora qualcosa qua giù in fondo, quindi sono anni che chiediamo un miglioramento, una messa in sicurezza con piccoli interventi. Il ponticello proprio qui di fronte a noi è messo malissimo. Benini poi ha ricordato che il tratto che va dalla Paleotta all'azienda Morelli è diviso in due dal ponticello e il progetto interviene solo sul secondo percorso andando a realizzare, ha detto, un'opera fuori dal contesto fluviale e naturalistico. Questo intervento è un intervento che va a tagliare inutilmente la scarpata che è lì da 25 anni. Ci si dice è a rischio di caduta, non è assolutamente vero perché sono 25 anni che è lì e sarebbero stati tutti i sindaci da allora fino ad oggi irresponsabili ad aver fatto passare per 25 anni migliaia di cittadini in un tratto pericoloso. Se noi non tocchiamo la scarpata, sistemiamo il fondo, mettiamo l'illuminazione in questo ultimo tratto che non c'è, oggi si possono fare illuminazioni autoalimentate che si accendono al passaggio e si spengono subito, perfetto. La staccionata, proprio qui dove siamo c'era una volta una staccionata, non c'è più ed è giusto metterla per proteggere. Stessa cosa nell'alto tratto, non c'è più la staccionata e là c'è bisogno molto di sistemare il fondo. Le modifiche richieste pure in consiglio comunale potrebbero essere apportate anche in corso d'opera. Anna Carotti, residente della zona e facente parte di diverse associazioni cittadine a tutela dell'ambiente, si dice amareggiata. Profondamente delusa dal fatto che le associazioni Arzilla Resistente, Arzilla Viva, il Comune di Fan e Asit non riescono a trovare un punto di incontro per elaborare un progetto sano, un progetto vivibile, un progetto che possa mettere veramente d'accordo la cittadinanza. Perché molte persone, me lo mettono anche sui social, sono contrarie a questo stravolgimento e quindi io penso che si debba riuscire a trovare un punto di incontro. L'amministrazione comunale ci aveva promesso in alcune riunioni che sono state fatte con i funzionari, gli amministratori, eccetera, che avrebbero cercato di trovare un progetto meno impattante, è cosa che più ad oggi io non vedo questi risultati. E questo mi dispiace perché credo nel valore delle associazioni, nel valore dei comitati e nella possibilità di tutelare un bene che abbiamo qui a poca distanza dalla città. Della stessa linea è l'architetto Giorgio Ruberti. Intervenire in zone come queste, senza possedere la storia, senza avere una conoscenza dettagliata, si possono fare dei danni seri. Preoccupa che uno non si renda conto che questo è un ambiente estremamente raro, estremamente piacevole, che a noi che l'abbiamo vissuto negli anni, io sono nato davanti alla palestra Trave praticamente, e chi l'ha vissuto negli anni, questo territorio era da ragazzi l'anticipazione, ma anche da adulti l'anticipazione di che cosa ci aspetta in fondo a questo percorso, cioè il mare. Inserire le gabbionate per 70 metri di lunghezza e abbattere gli alberi, ha spiegato Roberti, significa snaturare completamente il territorio. Viene presentato un progetto che non è una qualità e non è una nuova architettura del paesaggio, ma è una brutalizzazione del paesaggio. Se diventano delle superstrade ciclistiche, alla fine diventano altri elementi di violenza per un turismo che c'è, ma non c'è nemmeno la quotidianità del ciclista, non la si fa sulle piste ciclabili, la si fa sulle strade. Questa gabbionata chiaramente, con la riduzione di questo tracciato, può essere eliminata, perché facendola su tutto il percorso di una dimensione, mediamente attorno ai 4,5-5 metri, è chiaro che va a erodere la scarpata e quindi di conseguenza la gabbionata ha la sua necessità. Ma non facendola, a questo punto deve scomparire da qualsiasi ragionamento di mediazione e di progetto, chiamiamolo esecutivo, da realizzare qui sopra. Oggi pomeriggio il Tribunale di Pesaro ha reso note le motivazioni per le quali è stato accolto il ricorso proposto da Umberto Carriera tramite l'avvocato del Movimento Iapro, Lorenzo Nannelli, in merito alle multe ricevute per le aperture serali fatte dall'imprenditore di Pesaro in zona gialla e arancione. Il giudice Flavia Mazzini ha disapplicato il DPCM di Giuseppe Conte dichiarandoli illegittimi, perché essendo il DPCM un atto amministrativo, lo stesso doveva essere motivato. Infatti nessun verbale del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, motivava le chiusure dalle 18 in poi, delle medesime attività, in questo caso i ristoranti, che potevano rimanere aperte a pranzo e non a cena. Inoltre, sempre dai verbali, non si comprende per quali motivi nello stesso periodo le aree di servizio potessero rimanere aperte con servizio a tavolo, così come i ristoranti degli alberghi. Nella sentenza si legge anche che la differenziazione si traduce in una scelta dell'amministrazione che avrebbe dovuto essere supportata da dati scientifici precisi, nonché da spiegazioni tecniche in relazione al maggior rischio di diffusione del contagio nelle attività e negli orari non consentiti. Non è stata fornita alcuna indicazione se non tramite generici riferimenti all'evolversi della situazione epidemiologica. Ora Carriera potrà richiedere al Governo risarcimento dei danni subiti per le chiusure dei ristoranti. Lavori in corso in via Aureliano Affano per il nuovo manto stradale. L'assessore Fabiola Tonelli ha annunciato che nella prossima primavera partiranno gli interventi di asfaltatura in tutta la città. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Un nuovo manto stradale per via Aureliano nella zona di Ponte Metauro. Partiti i lavori per la riqualificazione di tutto il tratto, parcheggi compresi ormai ammalorati da diversi anni. Un intervento richiesto a gran voce sia dai residenti che dai frequentatori che usufruiscono del posto, soprattutto durante la stagione estiva. I lavori sono iniziati ieri, domani finiranno l'asfaltatura, compresa dei parcheggi pubblici a lato della strada. È una risposta che diamo ai cittadini che chiedevano l'asfaltatura di questa strada molto ammalorata. Siamo riusciti a completare i lavori prima dell'inizio della primavera e dell'estate. Questo è un ottimo risultato. Ringrazio anche l'assessore Brunori che ha avuto rapporti con alcuni residenti di questa strada e sollecitando l'amministrazione siamo riusciti ad inserirla nell'ultimo piano asfalti. A conclusione del cantiere, nel mese di marzo e tempo permettendo, partiranno i tanti attesi lavori di asfaltatura in tutta la città di Fano. Per quanto riguarda invece il nuovo piano asfalti di ben 3 milioni e 7, siamo in fase di gara. Conclusa la gara, inizieranno i lavori nel periodo a primavera. Riusciremo a fare questo enorme lavoro di 3 milioni e 7, soprattutto in periferia daremo una risposta a tante strade attualmente molto ammalorate. Disagi in vista domani per il trasporto pubblico locale. I sindacati hanno indietro uno sciopero per tutta la giornata e riguarda i tagli nel settore e il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2017. Dalle 11 alle 12.30 è previsto anche un sit-in davanti alla sede della Regione Marchia a Dancona. Adria Bus fa sapere che tra le 8.30 e le 17.30 e tra le 20.30 fino alla fine del servizio, le partenze dal capolinea o dalle stazioni terminali potrebbero non essere garantite. Inoltre, l'ufficio informazioni e le biglietterie potrebbero sospendere servizio nelle stesse fasce orarie. Verranno garantiti servizi per i disabili e quelli per le scuole materne ed elementari. Ieri si è svolta la conferenza dei servizi che ha approvato il progetto per i lavori di riapertura della strada della Gola del Furlo. Come ha riferito Stefano Guzzi, assessore regionale alla difesa del suolo, la conferenza ha dato una valutazione positiva sul progetto. Di conseguenza, è nel Green Power, si è presa l'impegno di insediare il cantiere dai primi giorni di marzo per i lavori di messa in sicurezza e la rimozione del masso pericolante. Sono convinto, ha detto Guzzi, che prima dell'estate si potrà aprire la strada e ridare slancio alle attività del territorio. Torniamo all'Expo di Dubai, dove le scuole e le aziende marchigiane, anche della provincia pesarese, continuano a presentare prodotti e progetti innovativi. Sono Luca Baricelli, sono uno studente proveniente dalla regione Marche, in Italia, e siamo qui insieme ad altri ragazzi per presentare i nostri progetti svolti presso la nostra scuola di studi superiore, l'IS Galilei di Ghesi. Abbiamo appunto svolto questi progetti di ricerca scientifica, adesso li stiamo mostrando qua all'ESA di Dubai, che è un Expo delle Scienze. Studenti e imprenditori in campo all'Expo di Dubai. Gli alunni del Galilei, come ha sottolineato il vicepresidente della regione Mirko Carloni, rappresentano la creatività dei marchigiani e la speranza di un futuro più sostenibile. I quattro progetti presentati dai ragazzi riguardano il sughero e composti organici volatili, un procedimento per determinare la durata dei beni consumabili, il recupero di energia da acqua e reflu e l'estrazione del glutine nelle farine di diverso tipo. Noi in questa manifestazione abbiamo portato un nostro progetto che si chiama Cork e Organic Volatile Compound e il nostro progetto praticamente tratta di come il sughero tende praticamente a interagire con questi composti organici volatili e in particolare come il sughero tende ad assorbirli e di conseguenza la nostra ricerca si applica su ambienti indoor, quindi come il sughero riesce appunto ad assorbire questi inquinanti e di conseguenza migliorare la qualità dell'aria all'interno di questi ambienti. Grande curiosità anche per Signor, la start-up innovativa Iesina, che crea prodotti altamente tecnologici nel campo dei sistemi di sensori e che ha presentato all'Expo Master Sense il naso elettronico per rilevare la freschezza dei cibi. Si tratta di uno strumento in grado di certificare l'autenticità dei prodotti alimentari attraverso l'implementazione di algoritmi e utilizzando l'intelligenza artificiale. Volevamo ringraziare la Regione Marche per il contributo che ci ha offerto e per l'occasione che ci ha fornito di venire qui a Dubai a presentare il nostro prodotto, il nostro progetto e di conoscere altre aziende che lavorano nel nostro ambito per poter creare una rete di aziende e poter creare un progetto ancora più grande. Da Cagli invece Townet ha presentato le sue Smart Box, sistemi di energia intelligenti per Smart Cities. La crescente diffusione dei sistemi di videosorveglianza e di telecomunicazione urbana ed extraurbana richiedono sistemi di alimentazione energetica sempre più efficienti e integrati con le moderne piattaforme di controllo. E l'azienda della provincia pesarese, grazie all'impiego di moderne tecnologie di accumulo e conversione basate su batterie green al litio, è diventata leader di mercato in Italia e in Europa per le soluzioni di televisione pubblica circuito chiuso. I suoi Smart Box sono telecontrollati in cloud e si possono alimentare con pannelli solari o tramite l'energia ciclica dei lampioni stradali. Townet a Dubai ha presentato i suoi nuovi modelli. Qui a Dubai stiamo presentando la nostra ultima soluzione che si chiama Sfera e siamo orgogliosi di aver integrato le nostre migliori tecnologie per presentarle nel mercato di Dubai. L'esperienza è iniziata qualche mese fa al Gitex Future Star, dove siamo stati selezionati come semifinalisti di un concorso per le Smart City e grazie alla Regione Marche procediamo con lo sviluppo dei contatti che abbiamo intrapreso al Gitex per la distribuzione dei nostri prodotti nel mercato medio orientale. Verrà riattivato lunedì 28 febbraio il centro ambiente mobile di Fano che sarà presente nei quartieri della città come indicato nel calendario consultabile sul sito di Aset. Il servizio venne dunque ripristinato dopo un mese e mezzo di stop a causa del Covid che aveva comportato un calo di personale. Nei giorni scorsi a Fano e anche nel corso di uno speciale su Fano TV si è parlato dell'aglione, un prodotto simile all'aglio che ha tante proprietà funzionali, ad esempio è antitumorale e amico delle ossa, ma è anche un'interessante opportunità di coltivazione. È presente in molte ricette della tradizione toscana, più dolce, più grande, meno invasivo dell'aglio e gustoso e salutare. Stiamo parlando dell'aglione, una varietà tipica della Val di Chiana, sulla quale si sta cercando di puntare anche nel nostro territorio. Nei giorni scorsi al ristorante alla Lanterna a Metauriglia di Fano, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Camera di Commercio delle Marche hanno ottenuto un convegno per illustrare le proprietà funzionali di questo alimento e le opportunità di coltivazione. Ma è un prodotto che da un punto di vista economico, per gli imprenditori, potrebbe produrre, può produrre sicuramente, se si ha un mercato nel consumo. E il mercato si ha perché se lei pensa che per poter svolgere questa iniziativa l'aglione addirittura ci è stato venduto a 60 euro il chilogrammo, che è una cifra altissima, però nel mercato mediamente vale dalle 20 alle 25 euro alla produzione e la quantità che si può fare è una quantità importante. È un cibo che però si abbina ai sughi, si abbina ad altri prodotti, può addirittura piantarlo in vaso, anche in casa. È chiaro che non possiamo pensare che questo diventi una cultura come il grano. No, diciamo che sono nicchie di mercato importanti che possono dare grandi opportunità. Nel corso degli anni è stata quasi abbandonata la produzione dell'aglione, definito anche aglio a prova di bacio. Infatti è privo di allina e dei suoi derivati e questo lo rende più digeribile e fa sì che abbia il gusto e il profumo dell'aglio, ma non le sue conseguenze poco piacevoli. Numerosi inoltre sono i benefici. È un toccasana per l'apparato cardiocircolatorio, per cui abbassa il colesterolo cattivo e aumenta quello positivo. Riduce i rischi di trombosi e di ictus. È un antimicotico, è un antiossidante, per cui come tutti gli antiossidanti è positivo per quanto riguarda i tumori. Può essere utilizzato quando ci pungono gli menotteri, per cui su una puntura di vespa o una puntura di apio strofinare, l'aglione riduce il gonfiore e il prurito. È amico delle ossa, questa è una caratteristica molto importante, soprattutto per le donne con i problemi di osteoporosi. E abbassa l'indice glicemico del sangue. Il fatto che puoi essere consumato in grandi quantità senza avere nessun tipo di problema permette appunto di essere considerato un bel alimento funzionale. A prescindere dal tipo di cottura? Allora, sarebbe bene utilizzarlo a crudo, come tutti gli alimenti, se sono mangiati a crudo, diciamo, mantengono maggiormente le proprie proprietà. Però basta non soffriggerlo, va semplicemente cotto nel pomodoro e poi schiacciato. E adesso le vostre segnalazioni. Partiamo dalle foto che un telespettatore ha scattato lungo la passeggiata dell'Esippo a Sassonia di Fano per mostrare lo scarso senso civico di qualche cittadino. Mi ha stupito vedere questo scempio, ci ha scritto, riferendosi non solo alle bottiglie di vetro lasciate a terra, ma soprattutto agli escrementi degli amici a quattro zampe che non sono stati raccolti dai loro padroni, i quali dimostrano di non avere rispetto verso il prossimo. Invece nel gruppo Facebook di Fano TV, reporter di strada, Katia Nicolini ha raccontato ciò che ha visto facendo un giro alle Cesane, passando da Fossombrone. Ci siamo imbattuti in questa invasione di bozzoli che pensiamo siano delle processionarie e che hanno invaso chilometri e chilometri di bosco. Fate attenzione, ha scritto nel post, ad andare a passeggio anche con i cani. Penso che la forestale ha concluso, ne si ha già il corrente, ma viste le dimensioni del bosco non so proprio come riuscirà a risolvere questo problema. A causa della pandemia, ormai lo sappiamo, è saltata l'edizione invernale del Carnevale di Fano con la tradizionale sfilata dei carri lungo Via Legrani. Un scillante carnevalesca però ha organizzato diverse iniziative per la settimana grassa. E oggi pomeriggio, in piazza 20 Settembre, il sindaco Massimo Seri ha ceduto simbolicamente la fascia e le chiavi della città al nuovo sindaco del Carnevale, Marco Guidi, in veste di cupido. Se la dà così a venire, cioè se la dà nel senso buono del termine. Vi ricordo che lunedì sera primo cittadino ci sarà il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni. Vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi do appuntamento a domani mattina alle 7 perché Massimo Fughetti leggerà insieme a voi i quotidiani. Arrivederci.